però è buio qua c***o ciao amici allora siamo qua a Capcana ragazzi adesso vi faccio vedere la cosa che abbiamo davanti che si chiama marina di Capcana quindi appunto la zona portiera costante in inglese fishing lodge che io pensavo fosse un bar ma invece è il porto è il porto e quindi adesso ve la faccio vedere ragazzi mi piace? qua c'erano le barche le yacht qua amici è un posto molto ricco c'è un posto appunto dove ci sono villette che costano anche tanto sono molto belline non so se mi si vede bene spero di si e aiuto adesso mi sbatto con questa cosa speriamone no molto bellino molto bellino non sembra essere pubblica domenicana cioè pensavo di essere tipo non saprei neanche dove però comunque un po' diverso dalla realtà domenicana ma siamo qui loro sono là giù indietro non so se si vedono spero di si vi mando un bacio sono rossa sono chiamata ultima inquadratura guarda la yacht qui abbiamo Filippo Giovanni Sofia che mi odio ragazzi mi odio mi odio siamo qui siamo qui siamo qui in Playa Blanca guarda la strada eh come stai? Per il p*********o Non lo hai detto? Sono il vlog Lo aggno la Repubblica Domenicana Ciao amici Mi dico mamma gente perché non vuoi perdere il suo tempo Siamo qui che dormiamo a casa di Filippo Siccome Sono le 3 di notte In questo momento è meglio che ci fermiamo qui e dormiamo qui Ci conviene perché siamo a Capcana Quindi cosa volete di più ragazzi? Esatto Stiamo tutti d'accordo che stiamo qui In...quanti siamo? 3 più 4? 7? In una macchina da 5 La Repubblica Domenicana in macchina ci si sta In quanti ci stanno dentro Non in quante ci sono Nelle regole dei documenti Non ce ne frega niente a noi Stai guardando? Ci va a impennare questa Un video mamma gente Ma che vuoi perdere il suo tempo? Ora con il Papa Guarda questo Direttamente da Pordenone In Repubblica Domenicana Filippo Le Noci Filippo Le Noci Qui abbiamo gli altri bro Alice saluta E questo è il tipo Tokyo Drift In Capcana Mi canta Mi canta Un altro Otro, altro Se non metti l'ultimo Noi non ce ne andiamo 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 Però diciamo che lo stanno facendo male Noi non ce ne andiamo male Noi non ce ne andiamo male Ecco qua Ecco qua Oh Qui abbiamo un esemplare di Filippo che sta prendendo l'acqua dal bottiglione Siccome l'acqua del rubinetto non è potabile Vero Filippo? Volete mettere, cioè alzare il bottiglione e mettere l'acqua No abbiamo preso questo farino Si carga con la cosa USB E via Tutto elettrico qua Eh Neanche la fatica di mettere l'acqua sulla caraffa La fatica nelle ginocchia si Allora, di cosa ti stai servendo? Abbiamo qui guacamole, tacos, pomodoro, pollo Mi piace di più questo guacamole Ah, gli piace di più questo Abbiamo la nostra perpetua Sempre presente Con dei gusti speciali Sempre, ovvio Guarda che specchietto Mamma mia Che lindis Comunque bravo l'inventore dei tacos Oggi proviamo la bicuela con dulces Per prima o dopo 7 metri La bicuela con dulces è un dolce tipico dominicano A base di fagioli, latte, anche latte condensato Spezie, tra cui cannella, fiori di garofano E ci mettono di tutto e di più in realtà Se c'è qualcosa che si può mettere ne approfittano e lo mettono Lo fanno cuocere per bene finché si addensa Poi lo versano su una tazzina E di solito ci mettono anche dei biscottini sopra Sembra una cioccolata calda Invece no Sono fagioli con latte e queste spezie che vi ho appena citato Poi ovviamente non manca neanche il zucchero e il sale E a me personalmente piace Però adesso vedete Alice cosa ne pensa Ma devo fare? Mangiare bene? Vai Ooooo It was at this moment he knew He fucked up Ti sembrano fagioli? Saliceci? Tipo un po' delicicante Carino La faccia dice tutto Com'è? Cin cin? Andiamo in casa del campo Si Ah 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 Uiii Fatto bellissimo E' in casa del campo Ciao amici Allora siamo appena arrivati a casa del campo Specificamente in alto sede Chavon Che è su una zona Più meno rustica Un po' artista Poi ve la faremo vedere Questa zona qua che è molto tipo caratteristica europea Esatto Da ricchi Molto Io non l'avevo visto ne ancora niente in realtà Tutta casa del campo è da ricchi ma questa zona in particolare fatta proprio tipo rula Rurale Sì E' molto storica Storica Cosa cazzo Ah però ci prendiamo uno spritz Niente siamo felici contenti Pronti alla vostra Giovanni deve ancora trovare il biglietto però lo troviamo adesso In qualche modo si trova una soluzione Niente Ozuna stiamo arrivando E' il negrito claro Cosa c'è la campaniendo? 9 Tornando Cosa c'è Cosa c'è la campanè? Kosa quando ha abrutto di? Dì Buogiorno Bà Perchè Qui Letta Ficora Niente No E non c'è che nell'amor sono un portante Io ti invito a voler innamorarmi, bebe Le borneggianti in Wendy's Dopo il concerto, già lo sai Ragazzi, buona Pasqua, 7 del mattino In Hangover, già lo sapete Alice, saluta un po' qui Mamma mia Grandissimo film Carito di Golf, la vuelta Ya tu sabes